ricomincia ok vai oggi ragazzi oggi siamo in un video abbastanza molto anzi oggi come potete vedere abbiamo tre diverse pompe e cosa ci dovremmo fare ragazzi? dovremmo pumpare l'aria sott'altra infatti come avete visto dal titolo questo video si chiama aria dentro una bacinella di vetro e allora abbiamo una bacinella di vetro molto trasparente e ci bomberemo dentro l'aria vi interessate come come l'aria come le bolle d'aria reagiscono come il getto d'aria reagisce al contatto con l'acqua stop 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 vabbè tagliamo sta parte dello senso pazzo e poi e niente vi lascio al video e iscrivetevi condividete a tutti questo video e soprattutto mettete like e attivate la campanella bene ora proviamo con la più piccolina ragazzi è venuto veramente una figata adesso proviamo con uno della misura il doppio è venuto è venuto E ora ragazzi siamo arrivati al boss finale che fa l'oggetto più forte di tutti ragazzi la super pompa per le bici. Gli altri due devono prendere i pannoli. Ciao. Ciao.